La vita può veramente svanire in un attimo e c'è chi non ha la fortuna di continuare a viverla e di gioire di ogni momento e quindi la forza l'ho ritrovata proprio nella vita stessa, nel voler vivere e forse proprio grazie a Corrado Sole, grazie purtroppo per via della morte di una persona che amavo così tanto invece ho imparato ad apprezzare e dare davvero valore alla vita.